Le nevicate dello scorso febbraio e le piogge terrenziali di marzo che hanno messo in ginocchio l'area vestina sono stati motivi di un convegno organizzato dal locale circolo del Partito Democratico a Farindola sull'isesto idrogeologico, la difesa e il governo del territorio. È un momento importante di riflessione che va appunto a rimarcare quelle che sono le criticità e le emergenze che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere. Queste belle giornate non devono far svanire l'attenzione su una situazione che rimane tragica e che purtroppo è derivata dall'abbandono del territorio, quindi non si fa più manutenzione, la gente va via e non si fa più manutenzione e tutto questo ineluttabilmente va a determinare il discesso idrogeologico. Intanto stiamo cercando di mettere riparo a una situazione che ormai sconta un ritardo pluriennale, insomma almeno decennale, ovvero quello della tutela salvaguarda del nostro territorio cercando di trattarlo un po' meglio e quindi intanto cercando di sfruttare ogni tipo di possibilità e opportunità che ci proviene dal governo, dall'Europa. Sì, è un territorio straordinario, basta guardarsi attorno ma proprio perché è ancora così naturale deve fare i conti con una fragilità e con una condizione anche di instabilità dovuta da un lato all'acquirsi dei fenomeni meteorologici e cambiamenti climatici e dall'altro alla strutturale fragilità del nostro territorio. Per questo ragionare insieme proprio qui di prevenzione del discesso idrogeologico, di cura del territorio, di salvaguardia del nostro ambiente, proprio in questa giornata in cui il tema dell'ambiente è al centro anche di una iniziativa di grandissima importanza del Pontefice è una occasione straordinaria e spero che da qui possa partire anche una consapevolezza nuova del valore del nostro territorio, del nostro ambiente per il futuro del Paese.